Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono ZP65 e oggi siamo qui con The Legend of Zelda Breath of the Wild Oggi andremo a vedere assieme la mini sfida, sfida secondaria, giocare con Prisca Allora Prisca, la troveremo, è quella bambina lì che sta correndo in giù La troveremo, allora io sono ovviamente sempre qua, come avevo già specificato in un video precedente Davanti al villaggio Calbarico, davanti alla casa di Impa, che è questa qua dietro Dicevo Impa la troveremo che corre qua dalle 12 alle 16 Noi interagendo ci dirà, che fame, che noia Noi gli chiediamo, vuoi giocare? Va bene, a che gioco giochiamo? Dai, a che gioco giochiamo? Allora, noi scegliamo Nascondino Io mi nascondo, tu stai sotto Però all'ora della pappa torno a casa della mia sorellona, fai quello che vuoi Allora, quando lei ci dirà che si nasconde Ci sbloccherà ovviamente la mini sfida Noi Noi La troveremo Sempre Nascosta In questo punto qui Ed ecco Che ci regala una sal gemma E abbiamo completato la mini sfida Però adesso vi faccio vedere anche Le due versioni di Tacchiappo Giusto per farvi vedere una guida completa Allora, noi possiamo scegliere Di dire vuoi giocare E gli diciamo che vogliamo giocare a Tacchiappo Allora, lei ci dice che scappa E noi dobbiamo prenderla E allora ci sono due alternative O ci fa partire Da questo punto qui E questo punto qui è la cosa più semplice Che c'è Se no, ci possiamo partire anche da questo punto qua Comunque li vediamo tutti e due Per il momento adesso ci ha fatto partire da qui Quindi, allora Partendo da qui Noi dobbiamo semplicemente stare fermi Prisca è lì Quella bambina lì Che si sta correndo addosso Noi stiamo qua E lei ci arriverà in braccio Senza fare nessun tipo di fatica Ed ecco Che l'abbiamo presa Ok Adesso vediamo se ci sblocca L'altro L'altro punto In cui Dobbiamo acchiapparla Ok Ok Questa È il terzo modo Allora Praticamente Perché non lo sapevo Questo modo qua È la prima volta che mi capita Allora vediamo Vediamo Anche l'altro No nascondino Ecco che finalmente ci ha fatto partire Dall'altro Dall'ultimo punto che ci mancava Che è questo qui Ok Allora per Prenerla da questo punto qui Dobbiamo correre Verso questa zona di qua E la troveremo Appena qua dietro Che scappa Eccola qui Ok Ci ho messo una vita A farlo Un video da due minuti Comunque va bene Io vi ringrazio per aver visto il video Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto Vi invito a iscrivervi al canale se volete seguire questa serie O le altre serie che sto portando Che ovviamente ce ne devi portare più avanti E Se volete contattarmi Trovate Tutti i link dei miei social In descrizione di questo E di tutti gli altri miei video Del mio canale Io vi saluto E Noi ci vediamo Alla prossima Ciao